salve amici e amiche dato che ultimamente vi ho viziato un poco con intro umoristici e particolari quello di oggi invece è un intro un pochino più serio apriamo infatti con il ministro degli affari esteri della polonia radoslav thomas sicorsky chi è intanto questo personaggio classe 1963 è un politico e un giornalista polacco ha iniziato il suo impegno politico nel 1970 diventando capo del comitato degli scioperi studenteschi contro il regime comunista della repubblica popolare di polonia nel marzo 1981 dopo la promulgazione della legge marziale nel dicembre 81 da parte del governo decise di fuggire nel regno unito qui ha iniziato la sua carriera come giornalista nel 1984 dopo aver conseguito la laurea ottenne la cittadinanza britannica e cominciò a lavorare come giornalista freelance negli anni seguenti fu corrispondente di guerra in angola e poi in afghanistan per vari quotidiani e riviste come the observer il national review the spectator the wall street journal e il sunday telegraph e fu anche chiamato a partecipare in qualità di esperto di geopolitica a numerosi programmi radio televisivi come voice of america la cnn fox news bbc world nel 1988 sicorsky vinse il premio wordpress foto per una fotografia scattata in afghanistan insomma reporter di guerra collaborazioni giornalistiche a destra e a manca cosucce proprio non da poco e poi diciamolo francamente è anche un bell'uomo però care ascoltatrici se state facendo un pensierino mi dispiace perché è sposato dal 1992 con la giornalista e storica statunitense anne applebaum anche lei personaggino mica da niente vincitrice del premio pulitzer nel 2004 dal 1992 sicorsky è tornato in polonia dove ha iniziato la sua brillante carriera politica fra le altre cose è intervenuto quale mediatore nella crisi ucraina sfociata nei violenti scontri di kiev che nel febbraio 2014 hanno portato alla morte di circa 100 persone fra manifestanti e forze governative e conclusasi con la sconfitta politica del presidente victor yanukovic sfiduciato dal parlamento ucraino e questo era un trafiletto che ho preso da wikipedia insomma quindi filo russi se siete in ascolto questa è una brevissima sintesi delle capacità o delle skill di questo personaggio se non ci credete cercate voi stessi per come la vedo io penso che sappia il fatto suo è probabilmente uno dei politici europei più apprezzati in questo momento e l'ho preso come spunto oggi perché così parlava il 24 febbraio 2024 rispondendo all'ambasciatore russo vasili nebenzia che fra l'altro nebenzia aveva appena parlato ponendo alcuni diciamo alcune tematiche tanto care ai filo russi dei noi altri del tipo che kiev è un regime nazista che l'ucraina è corrotta che l'europa sta portando avanti il suo neocolonialismo che l'europa è russofobica che la russia si difende dall'espansione dell'europa insomma tante altre cose che più che parlare di revisionismo storico qui si rasenta il ridicolo quindi cari amici facciamo parlare sicorski per quattro minuti madame presidente i associate myself uh with the words of uh minister kuleba of ukraine and my colleagues from the european union um but i am amazed at the uh tone and the content of the presentation by the uh russian ambassador and i thought i could be useful by um correcting the record uh ambassador nebendia has called um kiev the clients of the west actually kiev is fighting to be independent of anybody he calls them a criminal kiev regime in fact uh ukraine has a democratically elected uh government um he calls them nazis well the president is jewish the defense minister is muslim and they have no political prisoners he said that ukraine was wallowing in corruption well uh alexei navalny demo uh documented uh uh how um honest and full of probity his own country is uh he blamed the war on u.s neocolonialism in fact it is russia that tried to exterminate ukraine in the 19th century again under the bolsheviks and it's the third attempt he said that we are prisoners of rossophobia phobia means irrational fear yet we are being um threatened almost every day by the former president of russia and by um putin propagandists with nuclear annihilation i put to you that it's not irrational when russia threatened threatens us we trust it he said that we are denying russia's uh security interests not true we've only started rearming ourselves when russia started invading her neighbors he even said that poland attacked russia during world war ii what is he talking about it's the soviet union that attacked poland uh together with nazi germany on the 17th of september 1939 they even held a joint victory parade on the 22nd of september he says that russia has always only beaten back aggression what were russian troops doing uh at the gates of warsaw in august 1920 they were on a topographical excursion no the truth is that for every time that russia has been invaded she has invaded 10 times he says that this is a perfidious proxy war by the west my advice is don't fall into the western trap withdraw your troops to the international border and uh avoid uh this um western plot he also says that there was an illegal coup in ukraine in kiev in 2014 well i was there there was no coup president yanukovych murdered a hundred of his compatriots and he was removed from office by a democratically elected ukrainian parliament including his own party the party of regions and finally he is saying that we the west are somehow trying to persuade that russia can never be beaten well russia didn't win the crimean war it didn't win the russo-japanese war it didn't win world war one it didn't win the battle of warsaw it didn't win in afghanistan and it didn't win the cold war but there is good news after each failure there were reforms such demagoguery is unworthy of a member on a permanent basis on of the security council but what the ambassador has achieved is to remind us why we resisted soviet domination and what ukraine is resisting now they failed to subjugate us then they'll fail to subjugate ukraine and us now thank you very much spero sia stata interessante ma del resto vasili de benzia non è la prima volta che colleziona figure barbine diciamo così come sempre cari amici prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto qui sotto troverete i pulsantini per farlo sotto al video dove potete lasciare un mi piace e iscrivervi e attivare la campanella allora in queste ore arrivano rapporti dal fronte ucraino da giorni si parlava di incursioni da parte dell'esercito di chiev nella regione di belgorod erano voci e anche oggi più fonti parlano di un incursione qui vi mostro sulla mappa non posso sbilanciarmi perché come sempre c'è il rischio che sia un'invenzione di ma di mosca perché come dire no è bello inventarsi un'invasione finta e poi dire che è stata respinta ma comunque da ieri in realtà è anche stamattina sia mask 23 che j smart parlano di un gruppo ridotto di soldati meno di 400 che potrebbero e prendete quanto sto dicendo con le pinze potrebbero chiudere quest'area qui la stessa cosa potrebbe avvenire anche pochi chilometri più là nella zona di voi chansk comunque la situazione non è chiara i rapporti russi parlano di numeri contenuti di soldati dai 200 ai 500 soldati ucraini che si stanno muovendo nella regione dovremo comunque attendere le prossime ore per averne una conferma poi faccio un breve recap della situazione in generale non ci sono grandi novità nella regione di kursk segno che le forze ucraine con buona probabilità non vogliono spingersi oltre soprattutto per evitare di allungare troppo la loro linea logistica mentre è possibile che si espanderanno verso est nella ormai famosa area tagliata fuori dai ponti distrutti sul fiume seim passando più a est le forze ucraine hanno consolidato la loro posizione nel bosco foresta vicino a novodogne novodogne poco più a sud nella zona di new york gli scontri continuano da parte russa ci sono stati piccoli progressi in direzione di toresk nonostante perdite subite da parte del 46esimo battaglione di fanteria ucraina che ieri 27 agosto ha colpito un mezzo d'assalto pieno di uomini e poi soldati a piedi sono stati individuati dalle ricognizioni droniche successive l'avanzata russa verso pokrovsk continua anche se ieri ha incontrato il fuoco di sbarramento dell'artiglieria ucraina lungo le strade qui e poi si segnalano anche una serie di attacchi dronici qui qui e qui proprio ieri poco più a sud i russi cercano di chiudere l'area di voledar con un'iniziativa presso la città di costantinivka dove ieri hanno subito attacchi dronici ma sono riusciti comunque a piazzare la loro bandierina nella zona ovest qui e questa è la situazione mentre il deposito di carburante a rostov continua a bruciare proprio così saranno ormai 11 giorni 10 giorni che brucia ma andiamo avanti una piccola ma molto importante notizia che riguarda gli f16 ucraini giusto ieri sul canale di max 24 si accennava a un importante upgrade per le capacità di guerra elettronica degli f16 ucraini ora a leggere questi trafiletti parlano di un pacchetto speciale di aggiornamenti per le contromisure elettroniche tra l'altro anche nexta tv parla di una versione esclusiva di un sistema per la guerra elettronica che rendono le f16 invisibile ai radar russi ok allora vediamo di cosa si tratta premetto che trovare notizie riguardo è stato molto difficile e di sicuro questo tipo di notizie non sono mai accompagnate da dettagli e manuali però se si parla di aggiornamenti possono essere fondamentalmente di due tipi hardware e software vediamo intanto due cose molto importanti da dire nel pacchetto di f16 che gli ucraini hanno ricevuto oltre agli aggiornamenti del radar dell'avionica in generale ci sono delle cose interessanti ne abbiamo già parlato anche nei video scorsi tre in particolare per la precisione che fanno come si dice la differenza in combattimento ho già parlato per esempio del piz p i d s plus che è questo pilone strano con dei sensori le cui foto fra l'altro hanno fatto il giro del mondo questo pilone in sostanza era in dotazione agli f16 danesi e integra un sistema di autodifesa sviluppato proprio dalla danimarca come ho già accennato nei video precedenti questo pilone in sostanza ha dei sensori ottici che rilevano i lanci di missili avvisa il pilota che così può lanciare in automatico o manualmente le sue contromisure e così iniziare la sua manovra evasiva l'f16 nativamente non ha questo tipo di rilevatore di fumi quindi è un ottimo sistema che garantisce migliore sopravvivenza specialmente nei voli a bassa quota quando ci si espone alle postazioni missilistiche a corto raggio o ai missili spalleggiabili termici ma veniamo alla parte interessante perché proprio dalla danimarca arriveranno due versioni dello stesso pilone modificato la versione base quella denominata piz più di cui ho appena parlato che ha proprio dei dispensatori di contromisure sia per missili termici che radar sono queste finestrelle color bronzo per intenderci che sono delle celle da cui partono una sorta di bengala antimissili termici o materiali ferrosi in grado di disturbare i segnali radar mentre l'altro tipo di pilone tecnologico che abbiamo visto nelle foto degli f16 danesi e poi le cips plus e chips plus che è simile al pilone precedente ma infatti mantiene i stessi sensori ottici che servono per rilevare i lanci di missili ma non ha i dispensatori di contromisure al contrario invece al suo interno ha installato il sistema di contromisure in multifrequenza an alq 162 v 6 prodotto dalla northrop grumman e questo di fatto è un vero e proprio gemmer che ha un ruolo essenziale come disturbatore elettronico cioè genera letteralmente del rumore radar che disturba e limita le capacità dei sistemi di difesa missilistica radar così come disturba il rilevamento e il tracciamento dei radar aviotrasportati insomma per dirla in modo semplice è un disturbatore che rende meno visibile le f16 attenzione ma non invisibile insomma non lo rendono di fatto invisibile perché l'invisibilità radar non esiste è una leggenda metropolitana al massimo si parla sempre di riduzione della propria firma radar e questa per un f16 diciamo è già una cosa che ottiene nativamente perché di piccole dimensioni però bisogna sempre ricordare che è un aereo che non appartiene a una generazione più moderna di aeroplani come per esempio aerei europei o americani come l'f22 l'f35 o l'euro fighter che hanno dei disturbatori jammer integrati e poi comunque gli aeroplani sono realizzati con materiali compositi più moderni che riducono la firma radar in ogni caso che gli ucraini abbiano a disposizione le chip e ps plus è una gran cosa perché in questo modo non devono portarselo appresso al pilone centrale che quindi potrà essere usato per una tannica di carburante extra se poi parliamo di upgrade al software di questi disturbatori e alla loro stessa elettronica di modo che possano essere più efficaci contro le minacce radar russe contemporanee tanto di guadagnato tutto questo posso dirlo con assoluta certezza per quei piloti ucraini che passeranno dal su 27 e il mig 29 all'f16 sarà come un sogno letteralmente avioniche e sistemi di guerra elettronica così avanzata sono avanti di decenni rispetto agli aerei russi a cui sono abituati così le proiezioni dei dati raccolti da questi sensori e dalle antenne poste intorno all'aeroplano tutti questi dati verranno proiettati sui visori dei loro elmetti dandogli un enorme consapevolezza situazionale dell'ambiente circostante anche qui per quanto fighi vi mostro le immagini i piloti ucraini passeranno da un casco di questo tipo che vediamo per esempio pilota di mig 29 in questa foto passeranno a un casco con visore a proiezione dei dati integrato come questo penso che noterete voi stessi le differenze e il divario tecnologico fra questi due caschi quindi sì buone notizie per questi piloti davvero per concludere poi il video di oggi rispondo a un paio di commenti al video di ieri in cui ho accennato al fatto che gli attacchi russi alle centrali elettriche ucraine sono considerati crimini di guerra dalla comunità internazionale qualcuno mi ha detto che le centrali elettriche sono considerati obiettivi militari legittimi come lo sono state per esempio in serbia in iraq eccetera eccetera la risposta è no partiamo sempre col dire che ogni caso è diverso dagli altri non si può generalizzare la storia non a caso la russia ricordiamoci a priori ha attaccato figliacca mente una nazione che voleva solo essere lasciata in pace quindi a prescindere anche buttare un fiammifero in un pozzo ucraino in teoria non ha una legittimità per la russia che comunque tutta la comunità internazionale ha condannato la russia per questo attacco ingiustificato ma a prescindere la russia anche colpendo centrali elettriche collegate alle basi militari ucraine non avrebbe il diritto di farlo a parte questo comunque c'è l'articolo 147 della convenzione di ginevra che vieta alle nazioni di colpire centrali elettriche collegate a città o a reti civili che forniscono energia alla popolazione civile convenzione di ginevra che è bene ricordare sia russia che ucraina hanno firmato privare di energia le case dei civili gli ospedali le scuole le infrastrutture della città insomma è considerato crimine di guerra riportare alle stufe a legna la popolazione in una nazione in cui l'inverno scende sotto zero capirete non ha niente a che vedere con gli aspetti militari della questione con questi attacchi in sostanza la russia ci ha riportato al 1940 quando la germania cercava di distruggere il morale della popolazione inglese né più né meno ignorando il fatto che la popolazione londinese non è mai stata più determinata e coraggiosa e più la germania attaccava più gli inglesi resistevano e si arrabbiavano contro la germania quindi questi attacchi russi in sostanza sono l'ennesima dimostrazione della loro incapacità operativa ignoranza storica e di non considerazione delle ripercussioni ma come si dice no tutti i nodi vengono al pettine per non parlare di quello che resta quando la neve si scioglie come si dice in ogni caso ignorano come sempre la risposta internazionale a questi attacchi e guarda caso notizia di ieri 26 agosto gli stati uniti hanno incrementato le forniture di componenti per riparare le strutture energetiche ucraine quindi non posso non citare il video di apertura di oggi se la russia voleva tanto liberare e denazificare l'ucraina perché radere al suolo le sue città e colpire la popolazione se aveva così paura che l'europa e la nato si schierasse con l'ucraina perché dare all'europa e alla nato ogni giorno un pretesto nuovo per intervenire no un po un controsenso quindi con queste domande vi lascio e per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima